Se pensate che gli hotel siano solo per chi va in vacanza o per coloro che pernottano fuori casa per lavoro, vi sbagliate di grosso. Theuse.com ha infatti reso accessibile a tutti un nuovo modo di vivere il mondo alberghiero. Vi spiego di che cosa si tratta tra poco, qui su Deck Princess. Theuse.com è un sito web decisamente insolito nel settore dei viaggi. Questo servizio, nato in Francia, si basa infatti sulla prenotazione di camere d'albergo da usare durante la giornata, senza usufruire del pernottamento e disponibili a prezzi super scontati. Probabilmente vi starete chiedendo cosa potreste mai farvene. Mettetevi però nei panni di un viaggiatore in transito che fa scalo in una città e prima di potersi imbarcare deve attendere qualche ora. Potrebbe quindi approfittarne per fare una doccia o per riposarsi su un comodo letto per qualche ora. Un altro esempio? Un manager che tra un appuntamento e l'altro ha necessità di una camera per poter lavorare o semplicemente volete magari soggiornare, anche se per qualche ora, in un albergo di lusso e provare l'idromassaggio o l'area sauna e relax. TheUse.com è stato progettato per andare incontro a tutte queste necessità. Ma come funziona? Semplice! Attraverso il sito web oppure scaricando l'app dedicata, disponibile sia per iOS che per Android, cercate la stanza nella località desiderata. Et voilà! Il gioco è fatto! Ora non vi resta che scegliere un hotel. Vi suggerisco di utilizzare la mappa per capire quale albergo faccia il caso vostro. Ad esempio vicino alla stazione ferroviaria o all'aeroporto, oppure ancora potete ricercare usando i filtri per definire la fascia di prezzo, il numero di stelle, il tipo di sistemazione e i servizi offerti. Se poi siete tra coloro che preferiscono il contatto umano, basta chiamare il servizio clienti TheUse per farvi aiutare nella prenotazione. Ho usato la parola prenotazione non a caso. Il pagamento infatti verrà sempre effettuato direttamente in hotel, questo perché il servizio tiene conto di tutti gli eventuali imprevisti della vita quotidiana, come la babysitter che non può più venire, un volo cancellato o un appuntamento di lavoro che si protrae più del previsto. Inoltre il centro di assistenza è sempre pronto a darvi una mano e se volete a riprenotare lo stesso albergo per una nuova data. Direi che per oggi è tutto, vi invito ad andare a visitare TheUse.com e naturalmente il nostro sito web www.techprincess.it per rimanere sempre aggiornati sulle ultime tecnologie. Ciao!